Ciao a tutti ragazzi, buon giorgio a tutti i Giorgi e buon match shot a tutti gli altri. Oggi come potete vedere siamo qui in un video di FIFA, ma non siamo dentro una partita. No, non siamo dentro una partita e vi spiego anche il perché. O meglio, ve lo faccio vedere. Vi ricordate che l'ultimo video era in divisione 3? Beh, benissimo. Adesso guardate in che divisione sono. Sì, purtroppo sono in divisione 7, non per mio volere, ve lo assicuro. Sono in divisione 7 perché purtroppo ho trovato tanta gente che quittava al sessantesimo magari, dopo aver segnato l'1-0, o comunque so che dopo aver giocato più di 20 minuti la partita viene considerata come giocata e viene dato il risultato parziale. Purtroppo questa gente, la EA Sport e Origin, non decide di fare come CSGO, di non bannarli e non farli mai più entrare nei server di FIFA, ma li fa continuare a giocare. E questi magari sono in divisione 1 grazie a questi trucchi. Comunque, sono in divisione 7 e sto cercando di risalire verso la divisione 3 almeno. Quindi, ragazzi, la prima domanda che vi faccio è, sono in divisione 7, scrivetemi se vi va nei commenti se vorreste rivedermi direttamente dalla divisione 7, che comunque oramai credo che dopo questo video sarà la divisione 6 perché continuerò a giocare, oppure se volete rivedermi direttamente dalla divisione 3. cercherò di, se volete vedermi direttamente dalla divisione 3, cercherò di velocizzarmi e di cercare di arrivare alla divisione 3 il più in fretta possibile, evitando, se vi ricordate, avete visto i vecchi video, i vecchi bug, le partite rubate, i falli inventati, vabbè. Quindi, ragazzi, siccome me l'hanno chiesto in tanti, negli altri video oggi faremo un bel pack opening. Come vedete, di crediti ce ne sono, grazie a Dio. E andiamo nei pacchetti oro, ovviamente. I pacchetti oro, ho visto che ci sono questi pacchetti da 25.000 e andiamo a scoprire che cosa c'è dentro. Questo è il primo. Andiamo e vediamo che cosa ci riserva il destino. Dai, ragazzi, tifate per me, tifate per me, pacchetto. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Close, Blu e Rosso. Denis, il migliore è Denis. Ma è possibile? Vabbè, ragazzi, finisco di sistemare questo pacchetto e ci vediamo al prossimo pacchetto. Mi raccomando, non saltate il video. Ragazzi, rieccoci qua, pacchetto numero due, andiamo. Andiamo, dai, 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 Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere, non voglio vedere. Non voglio vedere... Chi è? Rodriguez. Chi è Rodriguez? Della Fiorentina, chi è? Vabbè, scartiamo tutto sto schifo. Arriviamo direttamente al pacchetto tre. Pacchetto tre, pacchetto tre. Intanto, ragazzi, spero che le altre serie... Approfitto per dirvi grazie per tutti gli iscritti in cui oramai siamo e spero che tutte le serie che stiamo portando sul canale vi stiano piacendo. Nel caso ne abbiate da consigliarci, sotto ogni video scrivetecelo Barzagli. Scrivetecelo Barzagli. Ragazzi, questi pacchetti fanno veramente schifo alla... Quindi, vabbè, scartiamo tutti. E vediamo se il quarto pacchetto almeno troviamo qualche cosa che non sia Barzagli. Dai, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Me lo sento, me lo sento, me lo sento, me lo sento. Vai, vai. Dante, Dante, ma che pacchetti sono? Ragazzi, sti pacchetti costano 25.000. Questi sono dei furti legalizzati. Niente da fare. Niente di combinato. Ultimo pacchetto, dai. E poi ne apriremo una decina di quelli da 7500, ragazzi, perché il video è partito da solo i 4 minuti. È corto, è comunque un pacco opening, vivici. Vivici. Cioè, noi abbiamo trovato... Il meglio che abbiamo trovato è Vivici e Negredo. Ma si può. Cioè, Vivici che ha di corsa 53, un comodino con le gambe, ce lo spacciano per un buon giocatore. Eh, questo pacchetto non è più disponibile. Ma grazie a Dio che non è più disponibile. Ah, 10 pacchetti di questi. Via col primo e vediamo che cosa ci riserva. Oramai sono sfiduciato, ragazzi. De Jong, il fratello brutto di De Jong. Bianco, oltretutto. Niente, niente, ragazzi. Non ce ne facciamo niente di sto schifo. Secondo pacchettino da 7500. Da 7000 sciro anche. Sì, lo so, ragazzi. Perdonatemi. Perdonatemi, è stata brutta. Speravo che le brutte battute incitassero i giocatori a venire da me. Invece no. Li mandano via. Via, via, via. Scartiamo tutto. Intanto, vabbè, in questo video ringrazio, ovviamente, come al solito, tutti. Da Pepo, che ci ha dato la visibilità. A Luke, questo è il terzo pacchetto. Intanto, a Luke 4316, che ci sta dando la possibilità di entrare a far parte dei partner con, appunto, il progetto Obiettivo Partner. Blink, che ci ha fatto le grafiche del canale. Miki, la intro. Gans, che è il primo iscritto e a cui diremo sempre grazie. E nonostante tutto, Gans ha migliorato anche i commenti, perché prima commentava solo GG, dopo una strigliata che gli abbiamo fatto, commentava guardandoci i video. Vabbè, a parte gli scherzi, ragazzi, grazie a tutti, ma lui in particolare è il primo. Poi, a tutti quelli che sono attivi, e vi vediamo, vi assicuro, vedete dalle risposte a tutti i commenti, perché se avete fatto una domanda è giusto rispondervi. Intanto, quarto pacchetto, Bernard. Ma chi è? Ma chi è? Ma chi è? Perché? Perché questa cosa nel mondo? Continuiamo ad andare avanti con i fantastici pacchetti, che oggi non è proprio aria, eh. Allora, è entrato Beppe, io sto facendo un pack opening, e... bene, molto bene. Buonasera anche a te, Beppe. Siamo al quarto pacchetto da 7500, scartiamo tutti perché il meglio è Defoe con l'emorroidi. Quinto pacchetto da 7500, ragazzi. Quinto. Quinto e non ho trovato un giocatore uno che sia degno di nota. O meglio, che sia meglio degno di essere chiamato giocatore, perché degno di nota è già grosso. Barzagli. Barzagli, io ti odio. Io ti odio. Io nella mia squadra non ti ci voglio. Barzagli, tu per me devi andare... Gioca pure nella Juve. Io nel mio ultimo team non ti voglio. E volesse la madonna, ma... Eh, intanto Beppe sta parlando, ma... Di me? Ma povero Barzagli, fa schifo alla... Ogvonna, Ogvonna. Cioè, a me fa schifo la Juve e ho spacchettato solo i giocatori della Juve. Ragazzi, ovviamente, per il fatto di... Mi fa schifo la Juve, non voglio scatenare polemiche. Sono milanista, sono fatto così ed è spirito calcistico. Intanto non so quanti pacchetti ho aperto, questo sarà tipo il sesto, settimo, ottavo, ma... Ho deciso che ne apro altri cinque, qualsiasi cifra io sia arrivato. Questo è il primo... Degli altri cinque. Non ha molto senso come cifra, però... Rosicchi. Cioè, Rosicchi non gioca più a livelli decenti dal 1630. Che noia, ragazzi, che noia. Allora. Meno 4. Meno 4. E vediamo di recuperare qualche, qualche cosa. Dai. Dai, Aquilani. Ma Aquilani non è un giocatore. Cioè, un giocatore, ragazzi... Allora, io voglio dirvi... Questo è un giocatore considerato oro. Un giocatore con 55 di velocità. 67... 61 di testa. Ma può essere considerato un giocatore che vale 80? Boh. È vergognoso, è vergognoso. Ma un close... Unames Rodriguez del Real Madrid. Così, eh. Io do idee... No, eh. Va bene. Dai. Dai. Eh, fantastico. Ho trovato Feguli. Un giocatore del Valencia... Di... Dell'Algeria. Ma io non... Ma io... Ma perché nel mondo la gente è così ingiusta? Io vedo pacco opening dove trovano Cristiano Ronaldo, Messi e io non trovo mai niente. Come è ingiusto il mondo. Va bene, ragazzi. Meno 3. Sarebbe meno 2. Facciamo meno 3. Fabio. Fabio è l'amico suo. Questo si chiama Fabio. Ma dai. Va bene, il regista lo mettiamo via. Ragazzi, gli altri li scartiamo tutti. Meno 2. So di essere già in difetto con le cose che avevo contato. Probabilmente ne ho già spacchettati 12. Ma vabbè, fa niente. Quindi, noi ce ne strafreghiamo perché noi siamo overpower. Samba. Cioè, noi abbiamo trovato un giocatore che si chiama Samba o Samba. Ma io non ci voglio credere mai. Dai. Meno 1. Questo è l'ultimo, ragazzi. Questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo. Questo è l'ultimo. Vi prego, vi prego, vi prego. L'ultimo pacchetto. L'ultimo. Lodeiro. Ma chi è? Ma chi è? Uno dei giocatori più brutti del mondo. Ma guardatelo, ragazzi. Ma guardatelo, vi prego. Adesso farò lo zoom su questa carta. Che questo è Barovero, tra l'altro. Non è neanche Lodeiro. Quindi, grande a me, eh. Eh, tu si che li guardi bene. Lodeiro? Eh beh, Lodeiro. Anche Lodeiro non scherza, eh. Però, il migliore è lui. Barovero. Piuttosto che, cioè, sembra avere un Apollo invece che la maglietta da calcio. Vabbè, scartiamo tutti. E per questo pacco opening molto produttivo. Ma molto, eh. Ma tanto proprio. Vi ringrazio. Vi ringrazio perché avete seguito gli aggiornamenti della situazione di FIFA. Vi ringrazio perché avete sentito Peppe che giocava. E... Cioè, che giocava. Vabbè ragazzi, Peppe non giocava ma è come se giocasse. Quindi, per questo video è tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, mettete mi piace. Se ti fate perché io trovi Messi, mettetene due di mi piace e un commento. Poi, ricordatevi di iscrivervi alla pagina di Facebook che, come al solito, troverete in descrizione. Come il canale di Blink e il canale di Miki. E anche di qualcun altro, credo, lo troverete. Adesso non so di chi lo metterò, ma un altro canale lo troverete. Voglio mettere un canale a caso. Quindi, mi sembra di aver detto tutto. E quindi, siccome sono Nebbia e non sono Peppe, per la seconda volta, come al solito, per questo video è tutto. E quindi, Peppe, visto che sei qui... No, devi fare la tua parte. Buongiorgio a tutti, Giorgi. E al prossimo video di FIFA, dopo che avrò letto i vostri commenti, a questo punto, o dalla divisione 6, o dalla divisione 3. A seconda di quello che sceglierete. Ciao, ciao, e ai prossimi video di FIFA. Ricordatevi di seguire le altre serie e commentare con altre domande per eventuali altri vlog, se li volete. E con tutto quello che volete. I commenti sono sempre ben accetti. Vi vogliamo bene. Ciao a tutti. Ciao, ciao.